Benvenuti e bentornati su Plenoctis, questa non sarà una recensione molto lunga perché effettivamente non è che ci sia particolarmente molto da dire su Midnight Fight Express, un titolo che di base non mi è piaciuto quasi per nulla e che trovo non funzionare praticamente in nessun aspetto, ma procediamo con ordine a vedere un po' che cosa ci propone questo titolo disponibile su Game Pass e per quale motivo effettivamente è un gioco che reputo insufficiente. Parto subito vuol dire che ci troviamo di fronte a un titolo, diciamo Beat'em Up con visuale semi dall'alto che ci ricorda vagamente Sifu come impostazione, si vede che alcune dinamiche sono riprese da quel genere di giochi lì, anche se poi Sifu non è che ha inventato chissà che cosa, però comunque è un periodo in cui dopo Sifu magari qualche esperimento da questo punto di vista si va anche a fare e che per quanto riguarda le dinamiche da fighting puro, quindi parata, controattacco e attaccare i nemici direttamente con pulsante d'attacco, riesce abbastanza bene in queste dinamiche il gioco, è abbastanza divertente proprio perché ci ricorda anche a livello di gestione per esempio un Batman della serie Arkham, cioè semplicemente colpisco il nemico, se vedo che si illumina di giallo e mi viene fatto notare che posso parare con il Perry e poi riattaccare, questo avviene abbastanza in automatico, avviene abbastanza bene il gioco, è anche abbastanza frenetico e dinamico in questo senso. Dove non arriva invece a funzionare quando vengono introdotte tutta una serie di nuovi nemici, tutta una serie di nuovi armi, tutta una serie di nuove possibilità che però vanno a rendere caotico, confusionario e pochissimo, pochissimo preciso un gioco che invece dovrebbe essere perfetto da questo punto di vista, dal punto di vista della precisione, proprio perché è fondamentale che anche nella sua fluidità trovi il suo senso e la sua ragione di esistere in un gioco che è fatto poi veramente con pochissimo budget, se non sbaglio da uno sviluppatore solo, che quindi non è che può inventarsi chissà quali dinamiche, devi essere preciso, ti devi accontentare di poter fare quello che riesci a fare e non strafare, invece questo gioco cerca invece di strafare tutto il tempo, perché questo? Perché a un certo punto vengono introdotte le armi da fuoco, armi da fuoco che però per quanto riguarda te sono pochissimo precisi e vanno utilizzate più o meno tipo twin stick shooter, nel senso che miri ti muovi e nel frattempo puoi sparare, miri con la levetta destra e puoi sparare, ma questo non è mai molto preciso, cosa che invece avviene con i nemici che ti colpiscono sempre e con tre colpi sei morto, il gioco vuole che tu faccia in modo di muoverti sempre, di utilizzare tutto lo scenario per colpire e attaccare i nemici, ma non è mai preciso, molto spesso non raccoglie gli oggetti che vuoi raccogliere, molto spesso non direziona bene dove vuoi colpire il nemico, la lock automatico, quindi la ricerca automatico del tuo colpo e del tuo attacco non è mai precisa perché tu vuoi andare a colpire il nemico che è armato, ma non ci arrivi mai, colpisci sempre tutti gli altri che non vanno giù con colpo solo, ma è necessaria una combo, nel frattempo gli altri ti hanno colpito, nel frattempo gli altri nemici di altro tipo ti attaccano con colpi imparabili che puoi soltanto schivare, ma la schivata non è reattiva, la schivata è qualcosa che va nella direzione che decide lui, che non puoi controllare e che poi nemmeno ti permette di riattaccare, nemmeno hai modo di poter subito, una volta schivato, ricolpire il nemico, perché la maggior parte dei nemici che caricano attacchi rossi, quindi imparabili, attacchi più potenti, ne fanno 5, 6, 7 di fila fino a che non si sono fermati e tu non puoi mai riattaccare. Oltre questo, parlavo appunto di precisione, la hitbox è totalmente sballata, ovviamente per un gioco di questo tipo, un gioco così a low budget, la hitbox è sostanzialmente il quadratone solido, quindi tu ti ritrovi a colpire il nemico, a essere colpito, non star capendo cosa succede, perché sei rientrato con l'attacco, ma l'attacco non va a buon fine, vieni colpito tu, perdi la vita, tre colpi sei morto, mentre nel frattempo magari ti sparano, mentre nel frattempo il gioco si inventa altre cose per essere il più vario possibile dove non c'è bisogno. Sono 40 livelli che cercano di dare varietà, alcuni più riusciti degli altri, altri veramente poco riusciti, ma nel complesso già dopo il settimo, ottavo livello già si avverte che il gameplay è finito. E quando parlo di gameplay finito, lo dico molto spesso in molti giochi, parlo del fatto che c'è un sistema di gioco che funziona in un certo modo e che gli sviluppatori, questo vale anche per altri titoli, riescono a portare e poi dopo cercano di strecciarlo, di modificarlo, di aggiungergli cose, di renderlo più vario, quando quel sistema lì può fare solo quello. E questo gioco può fare, secondo me, può funzionare solo se fa semplicemente attacco normale, parata e contrattacco, fine di quello che può funzionare, perché per il resto è un casino totale di hitbox che non funzionano, di confusione fra attacchi dei nemici, attacchi ad area, attacchi per esempio con delle sostanze tossiche oppure con il fuoco, che non funzionano, che non capisci quando avvengono, attacchi dei nemici che ti lanciano ogni tanto delle bombe, delle granate o dell'elicottero che ti spara, che ti dà il segno di dove ti sta colpendo, ma se tu ci finisci è un attacco automatico diretto, è un one shot diretto e non hai il tempo di schivare, quindi che cosa mi fai, mi dà il segno di dove mi sta attaccando, se tanto poi quando finisco all'interno muoio e basta perché hai deciso che è così. Quindi tutto questo rende tutto il gioco confusionario, le schivate non sono mai precise. Oltre a questo poi, se vogliamo parlare della trama del gioco che è veramente streminzita, ma ha una base anche interessante, cioè noi siamo Babyface, questo tizio della malavita, non si capisce bene all'inizio, che viene catturato da due poliziotti che fanno il poliziotto buono e il poliziotto cattivo e che ci chiedono di raccontare la nostra storia, dando per scontato che sostanzialmente noi siamo giustamente tenuti in carcere, cioè siamo giustamente stati catturati perché siamo diventati il tizio della malavita totale, il cattivone totale praticamente per quello che abbiamo fatto, ma raccontiamo a ritroso, quindi con dei flashback, tutto quello che è avvenuto. E questo sarebbe anche interessante, ma i colpi di scena sono abbastanza banali e soprattutto c'è una serie di dialoghi e di messaggi infiniti che non dicono niente, che spezzano il gioco tutto il tempo. C'è un gioco come questo che dovrebbe essere frenetico, dovrebbe essere frenetico e basta, cioè dovrebbe farti andare avanti, andare avanti e combattere e combattere. Ogni sezione, ogni quadro, diciamo, ogni luogo ha un dialogo. Ci sono un'infinità di personaggi, ogni volta ti devono fare introducing questo tipo di cattivo, mille cattivi diversi che poi non fanno altro che fare veramente lo stesso attacco, o rosso o giallo o essere armati, quindi in realtà non cambia nulla, però devono caratterizzarlo, ovviamente sono dei pupazzetti vuoti, di pura skin bianca colorata senza altro tipo di caratterizzazione se non quello dei vestiti, quindi sono una miliardi di skin per te, la personalizzazione è effettivamente molto varia, ma sono miliardi di skin per te, miliardi di skin per i nemici che vengono spammate nel gioco, perché ovviamente con quel poco di pixel con cui tu costruisci tutti i nemici che fai, non fai 970 milioni di forme differenti, poi il contenuto in realtà non esiste, sono tutte forme, forme di nemici, tutti uguali, che ti continuano ad attaccare, è tutto così il gioco e mentre tu vai, hai ucciso quattro scagnozzi, vai al quadro dopo, ti devono fare il dialogo stupido di questi che fanno l'azione cattiva e tu che devi eliminare loro, ti dico introducing questi tizi qua perché sono questi tizi qua, tutto all'infinito con una trama che appunto si dovrebbe sviluppare anche in maniera interessante, poste delle basi se ci fosse davvero dell'atmosfera che non c'è, perché semplicemente è la fiera della banalità e dei tutti i cliché buttati nel calderone per dirti sempre e sempre le stesse cose, sempre tu devi andare a sconfiggere, devi salvare la città, tu sai, devi uccidere tutti quanti, tu uccidi tutti quanti, arrivi fino alla fine, non c'è veramente niente di più in questo gioco e nella sostanza del motivo per cui poi questo gioco per me è insufficiente anche gravemente, quindi abbiamo già spiegato perché il sistema di combattimento non funziona e perché il sistema di gioco non funziona superate una certa soglia, superate delle certe dinamiche ed è solo frustrazione, perché nel momento in cui tu continui a inventarti combo, modi eccetera per evitare i nemici, nel frattempo qualcuno esplode da una parte e mori pure te, quell'altro ti attacca ad aria e dei hitbox e ti colpisce e mori pure te, te sparano da 400 metri mentre tu non riesci a colpire nessuno e mori pure te, loro mettono tutti i colpi dentro ed è morto, ricominci tipi 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 tipi, meni 2, 3, morto, due tipi tipi, morto perché c'è la moto che arriva e te colpisce, l'elicottero ti ha preso al volo, quell'altro è tipi 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 tipi, morto e poi morto e poi morto, per cazzate varie che non sai perché stanno avvenendo effettivamente, non sai perché nemmeno stai gioando a questo gioco, ma di base infatti a che serve gioare a questo gioco e veniamo al motivo per cui è insufficiente gravemente, perché se il game pass deve essere la cozzaglia, il calderone di titoli che non hanno scopo nella vita, che devono solo farti muovere e andare avanti senza motivo e soltanto per premere i tasti, veramente siamo arrivati a essere dei bambini che giocano con le formine e basta, fare i castelletti di sabbia a fine della nostra attrattiva, è un gioco che non può essere fatto in età adulta, non può essere fatto mai, in realtà è che di per sé è insufficiente, cioè non hai nulla da dire dal punto di vista della trama, a livello di coerenza tutto quello che avviene è semplicemente un insieme di cliché del genere buttati in mezzo senza cura, nessun dettaglio, perché anche se la grafica è spoglia e scialba, perché i mezzi a disposizione sono pochi, la direzione artistica è comunque peggio, perché non c'è direzione artistica, tutto è skin una più brutta dell'altra e tutti gli scenari sono uno più brutto dell'altro, anche a livello di caratterizzazione, l'unica cosa che forse funziona è un po' la colonna sonora, ma che comunque è sostanzialmente il giochino dei mix, di un ragazzo che mixa le cose e che butta dentro della roba, non ci stanno tracce memorabili, sono piacevoli nella stragrande maggioranza dei casi, ma non ci stanno tracce memorabili, non c'è una grande atmosfera, ma proprio perché non c'è nemmeno il racconto, non c'è nulla da raccontare, e se allora il gioco non è preciso, se allora il gioco non è davvero nemmeno vario, perché quando diventa vario poi si rompe, e se tutta quindi la funzionalità non funziona, e se tutta la coerenza non funziona, e se la trama è abbastanza ridicola, il mio voto non può che essere di 27 su 100 per un gioco che secondo me non vale la pena di giocare, perlomeno giocate poi tutto quello che volete, provatelo, sicuramente i primi 5, 10, 15 minuti sono anche divertenti, poi il gioco secondo me è totalmente da buttare, però se uno vuole lo può provare, anche perché è disponibile sul Game Pass, e veramente vi ritroverete, vi trovate a schivare il tutto senza senso, mentre la gente vi spara, tutto un gioco di schivate, di rotolate, rotolate all'infinito, un colpo a uno, un colpo all'altro, forse riesco a colpirlo, forse lancio una cassa a caso, forse gli sparo con i gommini che non fanno niente, spari 400 colpi, non muore nessuno, 3-3 colpi, se è andato giù ha difficoltà normale, quindi nemmeno troppo elevata, quindi un gioco veramente scialbo, privo di senso, da tutti i punti di vista, che a me non è piaciuto per niente, ovviamente nei commenti fatemi sapere voi cosa ne pensate, se lo state provando, se invece vi è piaciuto, sono convinto che arriveranno commenti, no ma che dice, è un gioco bellissimo e divertente, certo non un capolavoro, però comunque è un gioco che ti tiene lì quelle ore, sono sicuro che andrà in questo modo, però per me, valutando come opera questo videogioco, per me è un videogioco insufficiente, ma mi aspetto comunque che a molti di voi sia piaciuto, quindi scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere perché, magari argomentando anche cosa ne pensate, iscrivetevi al canale per supportarmi, e noi ci vediamo al prossimo video.